Non chiamatelo Teatro del Maggio perché quello che nascerà con l'apertura definitiva il 10 maggio del nuovo teatro dell'Opera sarà semplicemente l'Opera di Firenze. È questa l'idea di rilancio del Maggio Musicale Fiorentino che hanno il vice sindaco Dario Nardella, il commissario Francesco Bianchi e il maestro Zubi Meta, che a Palazzo Vecchio hanno presentato il nuovo marchio, il nuovo sito operadifirenze.it e la 77esima stagione artistica del teatro. Un'operazione che arriva ad alcuni mesi dall'accordo che prevede l'esternalizzazione del Maggio Danza, che ora viene affidato alla società Magda SRL e alla guida artistica di Davide Bombana. I nostri ballerini vengono distaccati a questa società con la quale abbiamo firmato una lettera di intenti. Questa società ci assicura 30 rappresentazioni l'anno e poi naturalmente ha una sua attività per la quale usufruirà di questi 18. Il piano di rilancio della fondazione del Maggio, voluto dal decreto Valore e Cultura dell'ex ministro Brai, adesso c'è. L'attesa è per quel fondo rotativo cui, secondo lo stesso decreto, dovrebbero poter accedere le fondazioni in difficoltà. Una condizione essenziale per la rinascita del teatro. Noi questo piano l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto per primi. C'ha dentro tutte le condizioni inderogabili di legge. Noi i compiti a casa li abbiamo fatti e ora è il caso che li facciano anche le istituzioni.